In questa puntata, Vaccini, non sprecare nemmeno una dose. Toscana Aeroporti, mozioni a tutela dei lavoratori a terra. Molte le mozioni legate alla questione vaccini, come quella che chiede di non sprecare nessuna dose. Approvata all'unanimità una mozione che chiede di inserire i volontari tra le categorie prioritarie e quella che chiede di valutare la possibilità di coinvolgere le associazioni di categoria per la vaccinazione sul luogo di lavoro. La discussione si è incentrata soprattutto sui problemi del portale, andato in blocco dopo pochi minuti dall'apertura delle prenotazioni per i soggetti estremamente fragili. Allora, sulle vaccinazioni degli estremamente fragili, l'assessorato ha l'elenco di tutti i preregistrati, che sono circa 80.000. Questa volta c'è stato un problema perché le dosi erano solo 15.000 e quindi si è creato un imbuto che ha generato delle grave difficoltà per chi si doveva prenotare. L'assessorato, abbiamo chiesto, sta lavorando a una soluzione che permetta di poter prenotare a tutti i 80.000 gli estremamente fragili che si sono registrati, tra estremamente fragili e caregiver degli stessi, in maniera da evitare ulteriori giornate come quella di ieri sera, nella quale si crea solo apprezzione e difficoltà. I vaccini purtroppo ne è arrivati meno del previsto, però contiamo che nei prossimi giorni l'assessorato possa riaprire una prenotazione o introdurre delle modalità organizzative che evitino le code di ieri sera. Mentre sugli over 80 il tema è l'arrivo dei vaccini. Questa settimana sono in distribuzione in questi giorni i primi 46.000 vaccini, 70.000 arrivano la prossima settimana. Se tutto va bene come noi speriamo, grazie alla collaborazione dei medici di medicina generale, che voglio ringraziare, si dovrebbe riuscire a, prima di Pasqua, a riavere un livello importante di vaccinazione degli over 80. Quindi contiamo in questi giorni di avere risultati. Mercoledì alle 14 l'assessore Bezzini verrà in commissione a riferire sull'andamento del piano vaccinale e di tutte le modalità organizzative che stiamo seguendo. Da dire che Gianni ha fatto un minestrone di informazioni volando molto alto politicamente, ma non ha risposto a quello che gli avevamo chiesto noi all'inizio seduta. Perché che il disservizio ci sia stato è evidente, che l'organizzazione sia carente ormai è conclamato, però cosa si intenda fare da domani ancora non ci è stato spiegato. E forse era anche semplice e umile dire qualcosa non funziona, dobbiamo migliorare. Se invece ci si focalizza sul va tutto bene, va tutto bene, ci arrivano però solo vaccini AstraZeneca e non riusciamo ad avere Moderna e Pfizer, mi domando perché Eugenio Gianni, invece di venire a fare voli pindarici in aula, non chiami il Ministero e non chieda che ci vengano forniti vaccini sufficienti e idonei per vaccinare le persone fragili e gli anziani. Questo è quanto noi pensiamo, l'organizzazione non funziona, abbiamo delle grandi falle che denunciamo da mesi ormai e che però se non vengono riconosciute per prime dal Presidente della Regione, il primo passo è proprio quello di dire c'è il problema, altrimenti non verrà mai risolto. Certo è che con la comunicazione di oggi Eugenio Gianni non ha risposto sui disservizi di ieri sera. Questo ci dispiace perché noi vorremmo riportare alle centinaia di cittadini che ci chiamano quello che la Regione intende fare. Insisteremo per cercare di capire se e come miglioreranno il sistema. Oggi in aula discutiamo di questo e ci sentiamo dire e ripetere che non è vero, che l'opposizione si inventa le cose, che in Toscana non ci sono mai stati sprechi, che non ci sono mai state dosi buttate. Allora, serve un punto fermo e un atto di umiltà da parte di chi governa questa Regione. Siccome sbagliare è umano, non c'è niente di male se l'assessore, il Presidente Gianni, i direttori delle USL si presentano e dicono abbiamo sbagliato. Non c'è niente di male. Nessuno li accuserà mai di averlo fatto in malafede. Nessuno pensa che in Toscana qualcuno abbia lavorato fino ad oggi per far fallire il piano vaccinale. Ma oggi ci sono i numeri. E i numeri dicono che la Regione toscana è la penultima in Italia per vaccinazione degli over 80, che non riesce ad aprire il portale per vaccinare i settantenni e i fragili, che qualcuno addirittura riceve invece a casa la telefonata a 40 anni per andarsi a vaccinare, forse perché è un personaggio famoso in televisione, perché gli hub vaccinali buttano via dosi di vaccino tutti i giorni, o almeno le buttavano fino a una settimana fa. E non c'è stato raccontato dagli alieni, l'abbiamo visto con i nostri occhi. Noi abbiamo chiesto di cambiare modalità organizzativa, abbiamo chiesto di migliorare l'organizzazione per quanto riguarda gli over 80. Siamo convinti che tante persone che hanno 80, 82 anni, 85, 87, possono tranquillamente recarsi negli ospedali. I vaccini Pfizer sono presenti in ospedale, poi dall'ospedale vengono portati nelle farmacie. Nelle farmacie deve arrivare il medico di famiglia che va in farmacia, prende il vaccino, lo sposta nel proprio ambulatorio, poi deve chiamare il paziente, il paziente deve aspettare la fila e poi andare in laboratorio. Noi abbiamo sei spostamenti di un vaccino, con un unico spostamento potremo fare sei vaccini. Quindi bisogna semplificare. Bene, abbiamo accolto la disponibilità del Presidente a avere la consapevolezza che forse qualcosa non sta andando nella direzione corretta. Serve un impiego differente delle USCA, si possono fare a domicilio, si possono fare negli ospedali, si possono fare negli hub, serve cambiare metro. A nostra proposta è vaccinare tutti gli over 80 entro Pasqua. Non possiamo attendere il 25 aprile perché è troppo tardi, perché queste persone hanno diritto e dovere di essere vaccinati. Le persone over 80 sono le persone che più di altre muoiono per il vaccino e noi dobbiamo dare a loro, che sono i fragili dei fragili, i più fragili tra i fragili, una vaccinazione molto rapida e veloce. Rispetto ai fragili, quindi rispetto alla disponibilità del vaccino moderna, è evidente, sono ancora troppo poche le dosi rispetto all'aspettativa. Se tu hai 80.000 persone che hanno quel diritto e si sono registrate, è evidente che solamente 15.000 hanno avuto quell'opportunità. Io credo che forse più che andare con il click day, anche lì con il timing rispetto alla pronotazione, avremmo potuto fare un ordine di priorità tra i fragili, che era il meccanismo iniziale che noi avevamo proposto e che infatti stava anche funzionando bene, perché le prime persone sono state chiamate dai centri di seguimento specifici delle aziende sanitarie. Avevamo proposto qualcosa di più, una commissione di inchiesta specifica per tutta la pianificazione vaccinale, perché è evidente che quello che sta succedendo non sono occasioni spot di servizi singoli. C'è un problema strutturale e quello che è inaccettabile è la disonestà comunicativa con cui si continua a dire che la Toscana è prima e sta facendo un ottimo lavoro quando non è così. Di fronte alla frustrazione di migliaia di persone che non riescono a fare una prenotazione, sarebbe invece auspicabile che la Regione comunicasse quelli che sono i problemi, quelli a lei imputabili e quelli che non sono imputabili, come per esempio la mancanza o i tagli delle forniture, e soprattutto che trovasse una soluzione. E questo può essere fatto all'interno di una commissione di inchiesta, un contenitore all'interno del quale mettere mozioni, interrogazioni, dove si possa fare un lavoro tra tutte le forze politiche per cercare di contribuire con la Giunta a questo. Il fatto che la Giunta non lo voglia è una chiusura inaccettabile, lo ripeto ancora, a fronte di quello che sta succedendo e non lo possiamo tollerare, perché queste persone in questo momento stanno subendo, oltre al danno di non sentirsi sicure perché non hanno ricevuto il vaccino, anche la frustrazione di non essere in grado di farlo. Parliamo di persone anziane e fragili. E soprattutto si sta scatenando panico sociale e allarme. E la Giunta è responsabile anche di questo. Intanto dobbiamo dire che siamo rimasti allibiti da quello che è successo. È inaccettabile che si dicano alle persone di andare a prenotarsi sul sito. Alle ore 19 e alle ore 19.1 il sito è andato in tilt. C'è qualcosa che non va e questo deve essere appurato. Io sono molto contento perché è stata approvata la mia mozione in Consiglio regionale che è un supporto all'azione del Governo e chiede alcune cose. La prima è vaccinazione 24 ore su 24. Oggi non possiamo più fermarci. Chiediamo anche che gli over 80 vengano vaccinati non solo nella maniera più rapida possibile, ma coloro che non possono spostarsi da casa lo facciano a casa. Cioè deve essere la Regione che va a vaccinare a casa. Chiediamo lo scudo fiscale. Cioè che la Regione chieda al Parlamento di fare una norma immediata, equilibrata, che consenta a medici, infermieri, personale del volontariato. Le tante persone sono rese disponibili a vaccinare, compreso i farmacisti, che si fanno una dose vaccinale e purtroppo chi riceve il vaccino ha per svariati motivi uno shock anafilattico fino purtroppo al decesso. Non vi debba essere nessuna responsabilità per chi ha somministrato quel vaccino. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità le mozioni sulla Società Toscana Aeroporti presentate da Fratelli d'Italia, con emendamenti PD, e dalla Lega. La prima impegna il Presidente e la Giunta regionale ad attivarsi in particolar modo presso i membri di nomina pubblica all'interno del CDA di Toscana Aeroporti affinché venga aperto un tavolo di confronto tra le società Toscana Aeroporti SPA e le istituzioni locali, la Regione Toscana e i rappresentanti dei lavoratori riguardo all'ipotesi di vendita della Società Toscana Aeroporti Handling e ad agire fino alla possibilità di sospendere l'erogazione della somma di 10 milioni di euro prevista a favore di Toscana Aeroporti SPA fino all'apertura di tale confronto e all'esito del confronto stesso. Sull'aeroporto noi siamo molto decisi nel dire che Toscana Aeroporti deve mettersi al tavolo con le istituzioni, quindi con la Regione e con i comuni, e con i rappresentanti dei lavori a parlare della vendita di Toscana Aeroporto Handling. Lo dovrebbe fare comunque, lo deve fare nel momento in cui riceve da parte della Regione Toscana un finanziamento di 10 milioni di euro, è l'intervento più importante nella crisi pandemica che la Regione Toscana fa, lo fa a vantaggio di una società ben precisa che è Toscana Aeroporti la quale oltretutto è partecipata dal pubblico e dovrebbe avere perlomeno il buon gusto di mettersi a sedere con le istituzioni, con i sindacati, con i lavoratori per poterci confrontare su una vicenda che sta mettendo in forte preoccupazione centinaia di famiglie toscane. Respinta dall'Aula con i voti contrari del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle la non partecipazione al voto di Lega e Fratelli d'Italia e tre soli voti favorevoli di Forza Italia e Italia Viva, la mozione presentata da Marco Stella sulla necessità di proseguire con il progetto di ammodernamento della pista dell'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze. La mozione intendeva impegnare la Giunta affinché proseguisse sulla strada del potenziamento strutturale dell'aeroporto fiorentino, in particolare della nuova pista indispensabile al rilancio dello scalo e all'economia della Toscana, in un'ottica di sistema aeroportuale toscano integrato con l'aeroporto Galileo Galilei di Pisa. In dichiarazione di voto il consigliere Marco Stella ha invitato una parte di consiglieri del Partito Democratico a votare a favore. Si vedrà chi è per lo sviluppo dell'aeroporto di Firenze e chi no, ha sottolineato. Il capogruppo PD ha annunciato però il voto contrario del gruppo alla strumentalità di questa mozione, ha detto Vincenzo Ceccarelli, che ha confermato la posizione del gruppo per la piena adesione al programma di governo. Una seduta straordinaria del Consiglio regionale in prossimità o in coincidenza della data della morte del sommo poeta, il 14 settembre, e se possibile una legge ad hoc per finanziare eventi dedicati. È quanto annuncia Cristina Giacchi, presidente della Commissione Cultura, anche a nome e per conto del presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mazzeo. Giacchi, che è anche vicepresidente del Comitato per le celebrazioni dantesche, istituito con delibera regionale, ringrazia a tutti coloro che si sono impegnati su progetti rappresentativi della Toscana nel Dante D, il 25 marzo. Il comitato presenterà a breve altre iniziative, ha detto Giacchi. Il presidente del Consiglio regionale ha partecipato a Firenze alla mobilitazione promossa dalla Rete Nazionale per i Diritti dei Ciclofattorini del Food Delivery. Nell'occasione ha annunciato che proporrà all'Ufficio di Presidenza una proposta di legge a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori delle piattaforme digitali. Sarebbe la prima legge regionale toscana sul tema. È un impegno che noi abbiamo preso qualche settimana fa, cioè dare voce a chi ha meno voce, dare più diritti a chi oggi diritti non ne ha. Cosa possiamo fare noi come regione, non solo per i rider ma per tutte le piattaforme digitali? Noi possiamo mettere in piedi una normativa che dia risposte in temi di sicurezza sui luoghi di lavoro. Oggi un algoritmo guida i tempi di consegna, un algoritmo ci dice in che direzione possiamo andare, come, cosa possiamo fare. Ecco, noi con l'algoritmo vogliamo superarlo e dare tutte le risposte che servono alle cittadine, ai lavoratori che oggi vivono un grande problema di sicurezza. Avete visto le morti che ci sono state sul lavoro e noi come regione faremo questo e in più manderemo una PDL, una proposta di legge al governo, al Parlamento, in cui diremo sostanzialmente di modulare nuovi contratti di lavoro, di definire maternità, ferie, tutto quello che oggi queste ragazze e questi ragazzi non hanno. È una legge di dignità. Grazie a tutti. Grazie a tutti.